Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Cosa sappiamo su Evelina Sgarbi, la bellissima figlia di Vittorio Sgarbi? La ragazza ha rifiutato di partecipare al grande fratello VIP scatenando l'ira del padre. Ecco tutto quel che c'è da sapere sul suo conto. Vittorio Sgarbi è furioso dopo la scelta della figlia Evelina di rifiutare la partecipazione al GF VIP. La ragazza è stata molto corteggiata dal conduttore Alfonso Signorini ma ha deciso di non far parte del cast. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, William e Kate si sono lasciati, via l'anello di Diana, colpa dei tradimenti del principe Vittorio Sgarbi Evelina Sgarbi rifiuta il grande fratello VIP Alfonso Signorini avrebbe voluto Evelina Sgarbi nel cast della settima edizione del grande fratello VIP ma la ragazza ha rifiutato con fermezza. A contattare la figlia di Sgarbi sarebbe stato proprio il conduttore in persona, ma per ben quattro volte lei non si sarebbe presentata all'appuntamento. A raccontarlo è stato il padre Vittorio Sgarbi in totale disaccordo con sua figlia. La reazione di Vittorio Sgarbi, perché voleva la figlia al GF VIP? Vittorio Sgarbi ha ribadito il suo disaccordo con la figlia e ha spiegato il motivo per cui avrebbe voluto che partecipasse al reality di Signorini, Evelina, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi? Età, foto, madre, lavoro Evelina Sgarbi è la figlia più giovane dell'allargata famiglia di Vittorio Sgarbi. La ragazza è nata nel 2000 a Torino e attualmente, 2022, NDR. Ha 22 anni. Non ci sono informazioni disponibili sull'identità della madre della ragazza che lo stesso Sgarbi ha sempre voluto mantenere segreta. Evelina ha due fratellastri, Alba Sgarbi e Carlo Brenner. In merito ad Evelina, il critico d'arte ha rivelato al Corriere della Sera una curiosità in merito alla propria paternità, Evelina è iscritta all'università, settore design e architettura. Ecco questa scelta come è stata commentata dal padre, restate aggiornati anche con la pagina Instagram di Per Scoprire in anteprima tutte le news in merito. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!